No ma dico io no, dico io, noi davvero vogliamo vincere l'Europa League così? Fatemi, no ma mi dovete far sapere se noi veramente vogliamo vincere l'Europa League così, il nostro obiettivo, ma come cazzo si fa? Di un pelo non siamo usciti, di un pelo, di un palo, di un palo, anzi di un palo Ciao ragazzi, sono Sheleboom, benvenuti in questo nuovo video, post partita di Napoli-Salisburgo, non è uscita la reaction perché ho avuto problemi con la televisione, con l'antenna Quindi non ho potuto caricare la reaction Ragazzi ma come cazzo si fa? Ma veramente, ma come cazzo si fa a prendere tre gol dal Salisburgo? Dai, come si fa? Rischiamo di perdere e di uscire Di uscire Ragazzi, meno male che ci ha salvato il gol di Milik Il 3-1, 3-1 Ma con questa squadra così? Noi l'Europa League non la vinciamo Non la vinciamo così Dove andiamo? Dove andiamo? Non abbiamo i difensori Dove andiamo? Dove cazzo andiamo? Non abbiamo niente E' fatto male pure Kirich, ci sai centrale Ma che difesa abbiamo? Ma non possiamo andare da nessuna parte così? Non andiamo da nessuna parte? In attacco se non ci sta Milik Se ne crolla tutto Mertens non si riprende più Si è fatto male pure in signa Dove cazzo andiamo? Eh ragazzi, un po' di personalità Non possiamo andare da nessuna parte così Da nessuna parte Io non ho visto bene la partita Ma il Napoli non è che ha giocato tutta questa grandissima partita Sapevamo che il Salzburg è una squadra che attacca Doveva attaccare E attaccato ha fatto tre golle Abbiamo rischiato di perdere e di uscire Con un 3-0 a casa Con un 3-0 Rischiavamo di uscire Guardate ma me 3-0 Noi rischiavamo di uscire Ditemi voi come cazzo si fa Ve lo spiegate? Mo' ci saranno i sorteggi Vediamo chi acchiappiamo Speriamo di non acchiappare una squadra forte Perché Sì, sì, no Stai con ma scimm Ho voluto fare questo piccolo post partita Non posso parlarvi bene Tecnicamente della partita Perché non l'ho vista Perché La televisione si bloccava L'ho vista in un sito Che devo fare? Che devo fare? Ma meno male Se no mi incazzavo ancora di più Mi incazzavo ancora di più Anche nella live reaction Ma Così Così Non andiamo da nessuna parte Ve lo dico Ve lo dico Così non andiamo da nessuna parte Vedete Come mettervelo in testa Il campionato ormai è andato Ci rimane La La Coppa Italia è andata Ci rimane l'Europa League Ci rimane L'Europa League E perdiamo 3-1 col Salisburgo Perdiamo 3-1 con il Salisburgo E se acchiappiamo altre squadre forti Arsenal, Chelsea Quelle che ci stanno Che succede? Che cavolo succede? Poi lo voglio sentire a De Laurentiis Lo voglio sentire però Vabbè Io non so che di Spero di Che ci riprendiamo Al più presto Perché Sto 3-1 Sicuramente farà male Siamo passati Non è che non siamo passati Però fa male Un 3-1 col Salisburgo Fa male E' sempre brutto E' bruttissimo E non va proprio bene Non deve accadere Assolutamente Non deve accadere In Europa League Che è il nostro unico obiettivo Assolutamente Io vi lascio Mi dispiace Che non vi ho portato La reaction Noi ci vediamo Ad un prossimo video Lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi Bella Ma come si fa? Ah Voi mangiassi il coscio A tutto quanto Voi mangiassi il coscio Non perdiamo più Sti partiti Da così Non sanno perdere Ciao Ciao